Partire per realizzare un sogno che altrimenti non prenderebbe forma. Riempire la valigia di vestiti e ambizioni per poi mettersi in viaggio verso chilometri di ignoto. Ignoto come il destino di chi si allontana dalla propria terra per motivi di studio, di lavoro e non sa ancora quando e se vi farà ritorno. Tutte le speranze dei ragazzi del sud che lasciano famiglie e affetti per inseguire il loro futuro, da oggi saranno raffigurate per sempre su un palazzo alla periferia di Andria. Una parete di circa 20 metri scelta come tela per l'opera dello street artist andriese Daniele Geniale. Si intitola Ritornerai, una domanda che affida al colore e alla creatività di un murales tutte le incertezze di chi va a cercare fortuna lontano da casa. La domanda che credo chiunque si ponga prima di partire o alla quale è costretto a rispondere come si vede nel messaggio del murales realizzato in questi ultimi tre giorni, una tecnica pittorica su questa parete di 20 metri e che si rifà a questo titolo Ritornerai richiuso nella vignetta di Whatsapp. Quindi c'è tutto un parlare di migrazioni che continuano a non cessare dagli anni 50 e che riguardano sempre più il Mezzogiorno d'Italia. Il progetto, elaborato dall'Associazione Culturale Andrea Grand Family, è risultato tra i vincitori di un bando promosso dalla Regione Puglia che ha finanziato la realizzazione dell'opera. Noi abbiamo saputo di questo finanziamento attraverso una manifestazione di interesse pubblico del Comune di Andrea che ha approvato la progettualità che abbiamo trasmesso, progettualità che poi ha vinto il finanziamento regionale. Quindi io mi sento innanzitutto di ringraziare il Comune di Andrea che ci ha dato la sua massima disponibilità per candidare questo progetto al bando regionale e chiaramente ringrazio Arca Puglia che ci ha concesso lo spazio per poterlo fare e credo che questa sia diciamo una occasione per riuscire a far comprendere che la street art sia in grado di dare messaggi che non abbiano solo una valenza culturale ma soprattutto sociale. L'obiettivo del bando regionale è appunto quello di valorizzare l'arte di strada da come strumento di rigenerazione e riqualificazione delle periferie e delle aree urbane più degradate delle città. L'arte è un'espressione fondamentale perché la bellezza che si respira si trasmette. Questo diventerà un fattore di identificazione sociale e anche di un quartiere che potrà vantarsi di avere un'opera d'arte all'interno di essa e quindi diventa anche un fattore di discatto sociale. Basta poco? Sì, basta poco. Certe volte basta niente per invertire una tendenza.